Buonasera Capoccio Rosso Nere, buonasera a tutti, Milan batte Tottenham 1-0 dopo una partita meravigliosa ma prima di alloggiare i nostri ragazzi mi raccomando non dimenticate mai, like al video, commentate con di dietro con gli amici soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche ragazzi, prima di cominciare il video però scusate vorrei dire una cosa, Stefano, 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 vieni qua Stefano, vieni qua, vieni qua ti prego spiega, fai una conferenza stampa dove spieghi a tutto il popolo milanista come cazzo hai fatto a tenere Malik Chao in panchina e far giocare Gabby al suo posto per più di metà della stagione, vai, 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 io già immagino Maldini durante gli allenamenti che vedeva ciao, li brillano gli occhi e fa, ah no, Stefano, ma com'è che non gioca? eh, ma gli altri sono più pronti di lui ragazzi, ma che partita ha fatto il nostro gigante tedesco, che partita ha fatto il nostro Malik Chao che partita ha fatto? Che giocatore è? Che giocatore è? ragazzi, la prestazione è stata incredibile da parte del Milan che entra in campo con una convinzione che non vedevo da tempo primo tempo, passiamo in vantaggio nei primi 20 minuti con un'azione lancio lungo di Chao Teo Hernandez riesce ad avverla meglio con un contrasto aereo di spalla su Romero prende la palla, tira respinta da parte del portiere su cui si avventa Diaz che tira, ribatte prima di piede, il portiere fa un miracolo e si butta di testa proprio come una candela e la mette in porta, la mette in porta una barzelletta, ragazzi, brandiazza che sia di testa neanche dei film porno ragazzi, meraviglioso, 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 una prestazione incredibile devo fare mia colpa, devo fare mia colpa perché l'ultimo Kier non l'avevo visto pronto, ma ragazzi, ma Simon Kier è sceso in campo ha puntato Kane, non l'ha fatto muovere Kane non l'ha fatto praticamente nulla è costretto a giocare a 20 metri dalla porta l'ho appuntato, l'ho presa a randellate all'inizio alla fine una prestazione monumentale di Simon Kier che torna il principe azzurro dopo l'infortunio ma cosa devo dire della partita, ragazzi, cosa devo dire è stata una prestazione meravigliosa una prestazione piena di voglia, piena di grinta di una squadra che praticamente ha messo sotto il Tottenham e mi sono mangiato le palle, io sono rammaricato davanti a voi perché la partita doveva finire 2-0 nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni su occasioni del Tottenham praticamente l'abbiamo patito pochissimo un'occasione si è squipedale appena entrato in campo CDK proprio un secondo dopo il suo ingresso in campo peccato, era freddo non è riuscito a concretizzare di testa ma ragazzi dopo arriveremo a parlare dei singoli subito dopo, nel secondo tempo quasi a fine partita cross di Leao ciao, riesce a liberarsi del difensore a colpire la palla quasi preoccupato all'uscita del portiere peccato la palla esce di poco fuori ma ha fatto un'azione incredibile Manic ciao ragazzi io non ho parole non ho parole speriamo che Pioli veramente si confessi stasera almeno si deve confessare per 90 giorni di fila deve spiegare ma l'ha fatto a tenere 90 giorni di Serie A fuori ciao ma ragazzi cosa dire cosa dire ancora di questa partita ho visto tante note positive ho visto il Milano che ha ritrovato compattezza unità di gruppo convinzione ho visto una squadra che si muoveva all'unisono ho visto un pressing fatto bene ho visto dei ragazzi che lottavano tutti tutti col sangue agli occhi se noi ritroviamo lo spirito che ci ha portato questo sul petto l'anno scorso non ce n'è per nessuno purtroppo lo scudetto è andato purtroppo la Coppa Italia è andata spero che dall'anno prossimo i mesi dell'anno diventino 11 cancellino proprio dalla storia dal calendario del mese di gennaio perché storicamente è un mese che abbiamo sempre patito tanto e spero veramente che venga fatta piazza pulita per quanto riguarda i preparatori perché purtroppo abbiamo sbagliato toppato la preparazione e ne abbiamo troppo risentito nel mese di gennaio correremo alla metà un Milano anche ora sta recuperando forma per essere al top stimo verso fine febbraio per fare tutta una tirata e arrivare a maggio facendo quanti più punti possibili non dobbiamo puntare al quarto posto dobbiamo puntare al secondo posto voglio arrivare davanti l'Inter quest'anno quanto meno questa micro soddisfazione arrivare davanti i campioni da rabbia e niente ragazzi voglio fare un complimento enorme alla squadra questa è la squadra che riconosco questa è la voglia che voglio vedere nei giocatori dal primo al novantesimo minuto questo è il pressing che voglio vedere un CDK che è entrato benissimo in campo lasciando stare l'occasione subito dove è entrato ma è entrato ha preso randellate tutte ha conquistato palle utili un Krunic che ha detto la sua nonostante sia difficile per lui dire la sua un tonale che ha fatto una prestazione di voglia di grinta è stato preso a randellate speriamo come ho visto stasera che la condizione fisica aumenti per rimettere il serbatoio della benzina a posto e fare un fine campionato una seconda parte di scudetto magari Dio di campionato meraviglioso ragazzi cosa devo dire devo fare sicuramente i complimenti a Pioli che ha preparato bene la partita Conte non è un allenatore dal gioco spumeggiante Conte non è un allenatore dal gioco tanto europeo si conoscevano bene ma lo ha praticamente bloccato è riuscito a bloccarlo veramente bene ha preparato bene la partita ha messo la migliore formazione in campo addirittura defezione di Tomori che non capisco perché allora non era recuperato perché ha fatto un provino magari il giocatore accusava Dolore non l'hanno voluto rischiare così come ben a stare finito in tribuna anche Messias è entrato benissimo al posto di Selmequer mi era un po' messo le mani nei capelli ah no mi era un po' messo insomma le mani sulla testa appena era entrato praticamente Messias al posto di Selmequer perché ho detto se Selmequer ha chiesto il cambio ok ma perché Messias? perché ero in Calabria? avevo paura invece è entrato con un'abnegazione con una voglia ha preso tutti praticamente le palle i cambi di gioco su Damiuma come cazzo si chiama le ha presi tutte lui ragazzi che dire prestazione incredibile lasciate tanti commenti tanti like tante iscrizioni domani ci vediamo con le pagelle di Milan Tottenham perché non potete mancare alle pagine di domani ragazzi Stefano ma come cazzo hai fatto a tenere ciama in panchina ma come cazzo hai fatto le ha prese tutte lui di testa porca puttana se penso a cosa sarebbe stato niente raga sempre forza Milan speriamo per la partita di ritorno daia Grazie.